Si sono concluse le operazioni di soccorso della speleologa marchigiana infortunatasi all'interno della grotta del fiume Vento in località Frasassi di Ancona. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 30 settembre 2018 mentre stava effettuando un'escursione all'interno della grotta. Le condizioni dell'infortunata hanno richiesto l'intervento combinato di medici, infermieri, tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'impiego di 50 tecnici ed operatori specializzati nel soccorso in grotta di una decina di soccorso alpino che hanno coadiuvato le operazioni di recupero all'esterno della grotta. Le operazioni si sono concluse poco dopo le due con la consegna del ferito all'ambulanza del 118. Sul posto, in supporto ai colleghi soccorritori marchigiani, sono intervenute quattro squadre del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, il Saso, con otto mezzi, tra cui due di questi adibiti per la logistica. Marcello Migliosi, Umbria Journal TV, Fra Sassi, Ancona.